Vangelo del giorno Mercoledì 22 luglio Santa Maria Maddalena Dal Vangelo secondo Giovanni Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo quello che Gesù amava e disse loro Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo hanno posto Maria stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi dove era stato posto il corpo di Gesù Ed essi le dissero Donna perché piangi? Rispose loro Hanno portato via il mio Signore E non so dove lo hanno posto Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi Ma non sapeva che fosse Gesù Le disse Gesù Donna perché piangi? Chi cerchi? Ella pensando che fosse il custode del giardino gli disse Signore se l'hai portato via tu dimmi dove lo hai posto e andrò a prenderlo Gesù le disse Maria Ella si voltò e disse in ebraico Rabuni Che significa maestro Gesù le disse Non mi trattenere perché non sono ancora salito al padre Ma va dai miei fratelli e di loro Salgo a padre mio e padre vostro Dio mio e Dio vostro Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto E' una delle scene più belle del Vangelo In cui si racconta la risurrezione di Gesù Protagonista è una donna Che aveva tanto peccato nella sua vita Che aveva vissuto di adulteri e immoralità Un giorno questa donna Per una strana situazione Incontra Gesù Gesù le guarda il cuore Le cambia la vita Le perdona i peccati Ed ella va via Ricordandosi le parole di Gesù Chi ti ha condannato? Nessuno Signore Neanche io Va e non peccare più E questa donna ha vissuto Con questo richiamo Con queste parole Oggi questa donna Dopo essere stata ai piedi della croce Si reca al sepolcro Per le ultime cure Alla salma Ma trova una pietra ribaltata E piange Perché non sa dove hanno portato Il corpo del suo Maestro Del suo Signore Di colui Che di lei Ha avuto pietà Ma un uomo le appare Sappiamo che durante le apparizioni Dopo la risurrezione Gesù aveva diverse sembianze Chi cerchi? E lei Se hai portato via tu il mio Signore Dimmi dove lo hai posto E andrò a prenderlo Maria Con quanto amore Gesù avrà pronunciato questo nome E lei Con quanto tremore Ha risposto Rabbuni Maestro Cosa avrà avvertito nel cuore In quel momento Ed ecco Che il Signore Consola sempre Chi Ama lui Chi segue lui Chi dona la vita per lui Ed è bello Che Gesù Si è apparso A Maria Di Magdala Che cosa significa questo? Che molte volte L'uomo si ferma Al peccato dell'altro All'errore dell'altro Alla storia sbagliata dell'altro Dio non ha paura Dio non ha paura del nostro peccato Dio non ha paura del nostro passato Ma sa Che con noi Può costruire il domani E può farci diventare persone nuove Maria è diventata una persona nuova Una discepola di Cristo Una donna innamorata del Messia E noi Come siamo? Siamo innamorati di Gesù? È realmente cambiata la nostra vita? O siamo ancora ancorati al nostro passato? Abbiamo incontrato davvero il Signore? Il Signore ha parlato al nostro cuore? Ci ha guardato dentro? Siamo riconoscenti per tutte le volte Che il Signore si è fatto compagno del nostro cuore